L'ex tronista di Maria De Filippi ossia Brando Efricchian e il suo amore Raffaella Squatto hanno deciso di festeggiare quello che è stato il loro fortunato incontro a uomini e donne. Da allora è già passato un anno. Ha scritto Brando nel suo account Instagram il ricordo di questo fortunato incontro. Grazie per aver creato un ambiente in cui ciascuno di noi può esprimere i propri sentimenti, condividere esperienze autentiche e, soprattutto, cercare l'amore. Sono grato per ogni momento trascorso e per le opportunità che mi avete dato di crescere e imparare punto non potrò mai smettere di ringraziare ogni singola persona, specialmente Maria, per tutto quello che è stato questo incredibile percorso durato sette mesi. Devo a questo programma anche il fatto di essere riuscito a trovare una persona speciale. Ogni giorno insieme è un'avventura da condividere e sapere di avere qualcuno che mi sostiene rende tutto più bello. A te, che sei entrata nel mio cuore, grazie per essere al mio fianco e per ogni istante che trascorriamo insieme amore mio. Grazie.